Potente a parla ragazzi! Qua è stato giunicarlo, sono da sole e sono qui a presentarvi l'apertura di un altro pacchetto da 100.000 crediti. Non so ancora dove caricherò questo video perché ho avuto dei problemi ad editare l'altro, quindi non so se voi l'avete visto di sicuro. E quindi ragazzi, siamo qua ad aprire un altro pacchetto da 100.000 crediti. Quindi speriamo che sia abbastanza diverso da quello di prima perché quello di prima era troppo magico. Quindi adesso, proprio per trovarlo, faccio comprendere questa schermata, schiaccio Ypsilon ed è già trovato un Team of the Year, infatti mi va nell'altro. Ed è già trovato, ho sbagliato un Team of the Year e ragazzi, secondo voi chi troverò? Scrivetemelo adesso nei commenti. Io mi accontento anche di un CR7, Trunk, uh, ci siamo, ci siamo. Col naso, col naso, col naso, dai, oh, ti prego, Zan, guardiamo in basso, guardiamo in basso, dai, ti prego, ne ho bisogno. Piscitella aiutaci, ti prego, al 3 apro gli occhi, 3, 2, 1, ho trovato una leggenda, Geeks. Oh, se c'è un Team of the Year è alla fine. Dai, ti prego. Dimmi che dopo William c'è qualcun altro. Ranocchia, dimmi che dopo Ranocchia c'è qualcun altro. Cristo, dimmi che dopo Rami c'è qualcun altro, ti prego. Nooo. Dimmi che dopo Subotic c'è un altro. Dimmi che dopo Sau. Dimmi che dopo Oilet c'è un altro. Dimmi che dopo Munya in c'è un Team of the Year. Oh, è lì. Ah, gli Aic. Dimmi che dopo gli Aic. Cristo. Dimmi che dopo Q. No, ti prego, Lukaku. Nooo. Ti prego, fammi andare a destra ancora. Nooo, che schifo. Ma stiamo, scherziamo. Trovo un 77, un 77. Quanti 77 ho trovato in questo pacchetto? Mi è andata una leggenda, Geeks. E' un 78, un 77, un 77, un 79, un 77, un 77, un 78. Oh, che due palle. Di buono abbiamo trovato William, costa 15k. Yeee. E poi abbiamo trovato Diego Lopez, 2000. Casorla, 1000. Marchetti, 3000. Ma che schifo. Nooo. Abbiamo ancora una possibilità e sarà la volta buona. Ve lo posso assicurare. Quindi ci si sente, credo, al prossimo pack opening che scresperò, che spererò e crederò contemporaneamente di fare oggi. Quindi ragazzi, detto questo, io vi saluto. Spero che questo bello un set, pack opening, di un pacchetto. Vi sei piaciuto, io vi dico potente a parlare, sento, al prossimo video, bolla, al prossimo pack opening, bolla. Potente a parlare ragazzi, qua Axel e oggi sono, beh. Non faccio tutta la rappresentazione perché oggi sarà o la seconda o la terza volta che mi avrete già visto farla. Quindi non sto qua a dire, potete, bla bla bla, o Axel, solo perché voi sapete già dove sto e cosa sto per fare. Infatti, come potete dire in alto a sinistra, ho 100.000 crediti. E con questi 100.000 crediti cosa farò? Andrò ad aprire il pacchetto da 100k. Se vi state credendo perché sto utilizzando un cappuccio, così. Una cosa abbastanza tattica, dato che non l'ho mai utilizzato e non ho mai trovato niente, magari questa è la volta buona. Quindi, noi siamo pronti. Siamo prontissimi. Oh, il primo. È questo. Oh. Veloce, via. Di impatto, di impatto. Abbiamo già schiacciato. E non guardiamo, non guardiamo. Dai, vai. Un team of the season. Oh, tutti con le mani così. Un team of the year. Tutte con le dita incrociate. Oh. Voi avete visto se ho trovato qualcosa. Io sto per aprire gli occhi. Li apro. Che schifo. Però, se c'è un team of the year, è tutto a destra. Quindi, io vedo un check. Via, di impatto, di avveloce. Oddio. Azz. Yeah. Un informa. Sicuramente non quello che mi aspettavo. Mannaggia. Cazzo. Mi speravo l'ultimo of the year. Caspita. Bestialata. Cosa che abbiamo trovato? Check. Check. Good. Awesome. Mindset positive. Went down. Grazie a tutti